Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Marco In giorno di sabato Gesù passava per i campi di grano e i discepoli camminando cominciarono a strappare le spighe. I farisei gli dissero, vedi perché essi fanno di sabato quel che non è permesso? Ma egli rispose loro, non avete mai letto che cosa fece Davide quando si trovò nel bisogno ed ebbe fame? Lui e i suoi compagni? Come entrò nella casa di Dio sotto il sommo sacerdote a Blatar e mangiò i panni dell'offerta che soltanto ai sacerdoti è lecito mangiare e ne diede anche i suoi compagni? E diceva loro, il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. Parola di Dio, lode a te o Cristo.